ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi siamo qui per cercare di iniziare a fare i primi nomi dato che in tutte queste ore abbiamo parlato dell'addio di paolo di bala del perché del per come di quello che accadrà ma mai effettivamente di nomi veri e propri concreti che potrebbero poi sostituire l'attaccante numero 10 della juventus questa scelta non è stata casuale è stata una scelta ponderata nel senso parlare subito del sostituto di di bala mi sembra un po eccessivo e poi io non sono ancora nemmeno tuttora convinto che potrà essere esattamente un calciatore il sostituto di paolo di bala sono dell'idea che debba essere anche sostituito a livello tecnico e qualitativo magari spalmando il numero di calciatori tradotto invece che paolo di bala due centrocampisti forti perché a centrocampo noi siamo sempre lì da anni a ripeterci questa favola questa storiella che ci mancano i centrocampisti che dobbiamo migliorare la qualità negli ultimi anni sicuramente si è fatto qualcosina con artur con meccanico locatelli con zaccaria però ancora mancano i campioni veri e propri o comunque dei giocatori qualitativi in grado di dare più spazio più azioni pulite più verticalizzazioni quello che volete voi agli attaccanti ci manca ancora quel sale a centrocampo vediamo di trovarlo in questa campagna acquisti e ovviamente la speranza è di poter aggregare in prima squadra a tempo pieno alcuni giocatori dell'under 23 come appunto sole a che omiretti juventus under 23 che comunque in questo momento gioca in serie c e proprio a proposito della serie c c'è una novità one football unisce le forze con 11 sport e trasmetterà la serie c durante la rimanente parte di questa stagione e tutta la prossima fino al 2023 su one football verranno trasmesse 5 partite di serie c ad ogni giornata e tutte le partite di playoff infatti con un solo clic potrete decidere quale partita visualizzare tra quelle che vengono trasmesse potrai acquistare la tua partita preferita ad un costo singolo di 3 euro e 99 centesimi invece gli highlights al termine della gara sono completamente gratuiti ovviamente tutte le altre funzionalità di one football rimangono invariate per scaricare one football puoi passare dal link in descrizione allora il primo nome della lista è quello di momo salah allora a me fa ridere questa cosa perché la considero impossibile come pista cioè impossibile termine un po troppo ma estremamente difficile la vedo molto complicata parlando di salah ovviamente analizziamo un calciatore intanto classe 92 quindi un anno più vecchio di paolo di bala della mia annata quindi momo quest'anno ci toccano i 30 ma assolutamente uno dei calciatori più forti che ci sono in questo momento in circolazione uno dei calciatori più determinanti da qualche anno a questa parte con il liverpool ha fatto favilla vinto la champions ha fatto rivincere la premier league dopo anni 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 l'abbiamo visto anche quest'anno contro l'inter in champions ancora super decisivo in premier league sta facendo tantissimi gol tantissimi assist contratto in scadenza nel 2023 non l'ha ancora rinnovato perché vorrebbe cercare di alzare l'ingaggio e qui entra in gioco la juventus e voi direte ma se lui vuole alzare l'ingaggio la juve che c'entra l'unica strada l'unica motivazione concreta che potrebbe avvicinare a livello economico salà alla juventus è il fatto che col decreto crescita ovviamente la juve potrebbe giocarsi più carte sullo stipendio netto pagando qualcosina in meno per gravi fiscali sull'ordo però sarà scadendo 2023 non è un parametro zero fosse un giocatore in scadenza già oggi di contratto sarei qui a dirvi vabbè nel senso lui magari non ha rinnovato vuole cambiare area la juventus magari gli va a offrire un contratto forte lui dice vabbè ultimo contratto della carriera la juventus io me la vado a fare molto volentieri ed eccoci qua anche se probabilmente sarà in questo momento potrebbe guardare anche altri club che lo dico proprio tranquillamente magari più importanti più impattanti a livello europeo rispetto alla juventus salà sarebbe credo il giocatore migliore andare a ficcare nel tridente me lo già ce l'ho già in mente chiesa sinistra sala destra blavici in mezzo tra l'altro un filo rosso che unisce tutti e tre tutti e tre ex fiorentina juventus si presenterebbe con un tridente di ex viola ma un tridente veramente potente importante e pesante qua un piccolo aneddoto che risale a qualche anno fa quando c'erano ancora i brailles dove giorgio gigante joe giant che tifoso della roma mi diceva ma si parla tanto di dibala ma in realtà si dovrebbe parlare anche di salà perché comunque a numeri molto vicini a quelli di dibala a volte anche superiori dibala è un po più sponsorizzato sala invece meno sponsorizzato io non ero proprio di quella di ciò guarda secondo me dibala semplicemente più forte di salà poi ovviamente vedendo come si è evoluta la carriera di bombo sala penso proprio di aver preso un granchio e che con il senno di poi a tanti anni di distanza penso di poterlo dire giorgio aveva ragione e pensare a questo incrocio ancora una volta di dibala che esce quindi sala che potrebbe entrare per ripeto per quanto secondo me sarebbe complicatissimo mi fa sorridere su sala c'è da dire una cosa però e questa va detta con grande chiarezza perché essendo un giocatore in scadenza 2023 appunto non è a parametro zero paghi anche il cartellino e allora qui un ragionamento lo devo fare perché sarei esaltatissimo di vedere momo salà la vivento sarei esaltatissimo di vedere quel tridente veramente andrei in guerra con quei tre lì però torniamo al discorso che avevamo fatto all'acquisto di vlaovic e cioè vlaovic è un colpo è un investimento vero e proprio per via dell'età quindi investo 70 80 milioni di euro perché comunque stiamo parlando di un classe 2000 sarà un 92 che significa che sono quasi dieci anni di differenza un giocatore sui 30 sulla trentina sulla falla serie di quello che era accaduto con iguaini con cristiano ronaldo cristiano ronaldo era più vecchio iguaini era un pelo più giovane però alla fine dei conti se andiamo a pensare a quelle che sono state le evoluzioni di iguaini ronaldo alla juventus parliamo di minusvalenze fisse perché per forza di cose poi i calciatori arrivano nell'età in cui calano ma non solo di rendimento ma anche di valore economico per forza di cose quindi non so se questo potrebbe essere un colpo alla juventus della juventus di oggi una juventus che sta molto più attenta ai conti che cerca di far quadrare tutto che addirittura si mette nella condizione di silurare paolo di bala proprio perché se no sarebbe troppo per un giocatore di questo tipo e allora qui dico non so mi sembrerebbe strano immaginare e pensare una juventus che si butta a capofitto su sala per via dell'età dei costi molto elevati che andrebbero non dico verso quelli di ronaldo perché ronaldo non aveva decreto crescita però l'ingaggio che va a dare sala dovrebbe essere sulla falsa riga di quello il cartellino di sala io credo che almeno 70 80 90 100 milioni forse anche qualcosa di più il Liverpool ti richiede nonostante un anno dalla scadenza e quindi mi sembra un po complicato poi dall'altra parte è vero che certi giocatori sono eccezioni a regole non scritte ma che ormai abbiamo iniziato a comprendere lato juventus e lato direzione della nuova dirigenza della juventus sarei sorpreso di vedere sala ma la sorpresa sarebbe probabilmente una goccia nell'oceano rispetto alla gioia che potrebbe pervadere tutto il mio corpo nell'immaginare quel tridente lì poi non so cosa ne pensate voi a me pare veramente molto complicata e attenzione perché si sta parlando anche di domenico berardi ora su berardi ovviamente sono meno esaltato rispetto al nome di sala c'è da dire una cosa no e cioè che io sono assolutamente pro arrivo di domenico berardi la juventus a patto che non mi venga venduto come erede di paolo di bala nel senso tradotto cerco di spiegarmi berardi non lo considero assolutamente un potenziale titolare per questa juve se il nome di berardi è accostato è inerente a quello di bernardeschi e cioè serve un giocatore che possa essere la riserva del titolare o comunque un giocatore che entri nelle rotazioni che sia un giocatore da turnover un giocatore non di prima importanza non il titolare allora domenico berardi io me lo prendo e credo anche di andare a migliorare sensibilmente quel reparto lì andiamo a prendere un giocatore più esperto anche rispetto a quello che era il bernardeschi che arrivava la juventus un giocatore fatto finito che si va a giocare le sue opportunità la sua prima grande opportunità in una big e lo prendo volentieri ti dà qualcosa sui piazzati ti dà qualcosa sulla fantasia quindi ben venga se devo prenderlo come sostituto di di bala inizio a farmi due domande quindi si berardi a patto che non sia il titolare e qui apro una parentesi perché comunque deve andare a trattare col sassuolo e il sassuolo lo sappiamo bottega carissima completa questo trittico di nomi nicolo zagnolo ma di zagnolo avevamo già parlato con romeo agresti il giorno dopo la chiusura del mercato invernale della juventus ed eravamo tutti sconvolti della serie come abbiamo appena concluso il mercato invernale c'è già il nome del mercato estivo e la partenza di di bala va a pompare ulteriormente il nome di nicolo zagnolo e lo va a posizionare tra quelli più probabili uno dei giocatori più probabili come arrivo alla juventus io però qui apro una parentesi e cioè quanti milioni di euro dobbiamo riconoscere alla roma per le prestazioni di nicolo zagnolo perché secondo me il cartellino di zagnolo tra i 50 e 60 milioni forse anche qualcosina di più potrebbe chiederla roma allora qua la domanda sorge spontanea ha senso investire una cifra così alta per un giocatore come zagnolo che sembrava un'ottima promessa aveva fatto vedere grandi cose ma che in questo momento sia un po calmato e che viene da due crociati e in questa stagione in cui ha trovato continuità dagli infortuni non mi sembra che abbia fatto chissà che cosa le qualità di zagnolo sono indiscutibili a me piace tantissimo però se devo pensare di investire una cifra così elevata per la parte relativa al cartellino del calciatore che giustamente la roma si vorrà far pagare a peso d'oro non tanto per l'ingaggio perché sui 3 4 3 e mezzo milioni di euro all'anno dovresti cavartela quindi non lo so da una parte c'è un assolutamente sì salà però attenzione all'ingaggio al cartellino dall'altra c'è ha molto più senso spendere su zagnolo perché comunque è più giovane però non siamo a livello di salà la terza parte assolutamente sì domenico berardi però ovviamente la qualità di berardi rispetto a quella di zagnolo e salà non c'è nemmeno da metterla e anche qua il zagnolo forse lo metto più vicino a bernardeschi ma non perché voglia livellare zagnolo e bernardeschi sulla stessa linea no diverso se mi immagino una juventus che vuole cercare di migliorare il titolare di bala e migliorare la riserva che bernardeschi immaginarmi chiesa blauvic titolare più zagnolo come prima riserva ecco capite bene che la juventus è andata a creare un tridente super forte più zagnolo che può benissimo essere a livello dei titolari può diventare un titolare può essere quindi per dire banalmente escono di bala e bernardeschi entrano zagnolo e berardi probabilmente il picco di dibala e la media di bernardeschi vai a livellarle però non so quanto effettivamente convenga fare un colpo del genere dall'altra parte ti dico se poi mi prendi invece due centrocampisti veramente forti allora zagnolo berardi e li faccio andar bene perché so che bene o male li giro come mi pare aggiungo quadrado chissà eventualmente riscatto di morata soleo anche in prima squadra che iniziano a diventare titolari o comunque giocatori non titolari mi sembra un po' eccessivo perché non sarà così ma giocatori che entrano nelle rotazioni con più insistenza e più importanza ma due centrocampisti forti allora inizio a capire però ad oggi sono tutti i nomi buttati lì così che non ti fanno capire tanto aggiungo che cerchiamo di fargli identikit salà berardi zagnolo giocatori sull'esterno che giocano esterno di piede mancino che molte volte rientrano appunto per cercare il tiro verso lo specchio della porta a me viene in mente un nome che era della juventus vino qualche mese fa che è degli ankuluseschi che andrebbe a ricalcare perfettamente questi identikit che è ancora nostro perché poi magari il tottenham non riscatta ancora nostro però è stato bocciato per milioni di ragioni anche per via magari del fatto che non piaceva esattamente allenatore non era il tipo di giocatore che sta cercando allenatore qui principalmente che nelle caratteristiche e quindi è un altro discorso però fa ridere come si stia cercando un profilo mancino che giochi sull'esterno soprattutto a destra che possa fare e ce l'avevamo già e lo abbiamo venduto questa cosa bisogna sottolinearla e ci sono anche altri nomi che circolano però nel video di oggi ci fermiamo qua ho portato un po di riflessioni su queste tre nomi tra l'altro riflessioni che avevo già fatto un po in giro nelle varie dirette di questi giorni però era giusto anche riassumerle all'interno del canale youtube fatemi sapere che cosa ne pensate se siete d'accordo e se avete altri nomi in testa per dire c'è antoni dell'ajax che sta girando io non lo conosco sinceramente quindi faccio un po fatica a darvi il mio giudizio vedremo chi sarà il sostituto o chi saranno i sostituti di paolo di bala